Il Consiglio regionale della Toscana si è riunito in seduta solenne per il giorno del ricordo. Il Presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo ha fatto presente che si tratta di un giorno promosso per la prima volta, dopo l'approvazione della legge istitutiva, 16 anni fa dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi per rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli stiani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Da allora, il 10 febbraio di ogni anno, si celebra il giorno del ricordo per commemorare quei drammatici avvenimenti e spiegarli alle nuove generazioni come voleva il Presidente Ciampi ha spiegato Mazzeo. Il giornalista Fausto Biloslavo, che da decenni racconta scenari di guerra e conflitti etnici nel mondo, nel suo intervento è partito dal ricordo del nonno Ezechiele, che è stato portato via quando sua madre era una bambina, che dopo aver visto portare via il padre non l'ha più visto tornare e non ha mai saputo dove sia stato ucciso in foibato, non aveva mai fatto male ad una mosca e per questo era rimasto a Trieste a guerra finita. Riguardo alle polemiche sul suo invito, come quella della capogruppo del Movimento 5 Stelle Irene Galletti, che ha lasciato la seduta solenne al momento del suo intervento, ha replicato «Da 38 anni, ho solo una tessera in tasca, ed è quella da giornalista. Voglio garantire che non sono né un eversivo, né un revisionista, né un antidemocratico». L'intervento dello storico Franco Cardini verteva invece sulla conoscenza storica e primato della politica per evitare le Auschwitz e le foive del futuro. La premessa di Cardini è infatti, la storia non è un tribunale, il suo compito non è giustificare nel senso di assolvere oppure condannare, è chiarire dall'interno come sono avvenute certe cose. «Questa faccenda della giornata della memoria e poi della giornata del ricordo è partita, vi ricorderete tutte le polemiche, anche quando cominciò le idee del Parlamento al riguardo, eccetera, è partita un po' come una sorta di derby. E molti italiani l'hanno intesa in questo modo, è tragico, è irritante, può fare anche ridere. Però è vero che gran parte degli italiani intende la giornata della memoria come una cosa, questione ebraica e se si vuole questione razziale a parte, come una cosa, come dire, un po' più di sinistra e la giornata del ricordo come una cosa, come dire, un po' più di destra. Ora il problema è che evidentemente la storia non è un derby. La memoria e il ricordo sono altre due cose. Non a caso, la memoria era già occupata dalla Shoah, chi ha pensato che bisognasse parlare anche delle foibe ha parlato di ricordo. Ora io non lo so se ha fatto apposta, ma l'operazione fatta è molto sottile, per cui penso sia arrivata per caso, perché non credo che l'abbiano fatto appositamente. Però è una bella coincidenza. Memoria, come sapete, viene da mens. Quindi evidentemente c'è un elemento di razionalità nel richiamare qualcosa del passato. Ricordo, come sapete, bene d'accordo, in latino di cuore. Quindi c'è un elemento di maggiore affezione. Ora, la testa e il cuore non sono in contrapposizione, anzi, dovrebbero essere l'uno complementare all'altro. E tutti e due mancano di qualcosa. Perché come sapete, perché chiunque di noi ha delle memorie e dei ricordi, ed è interessante fare la differenza, come sapete la memoria e il ricordo, sono una sorta di continuum con degli elementi che spuntano fuori, un po' come le punte dell'iceberg. Ci ricordiamo certi momenti importanti della nostra vita, ma se poi ci chiedessero, non dico se abbiamo mangiato a colazione l'altro ieri, ma se poi ci chiedessero anche cose importanti, quando ci siamo, che so io, laureati, qualcuno anche quando si è sposato, non sapremmo nemmeno ricordarlo. Ora, la storia serve a questo. La storia è la razionalizzazione della memoria, che è un continuum che produce in realtà angoscia oppure produce amnesia. E allora la storia deve mettere a posto le cose. Perché, cosa che dovremmo ricordare, soprattutto noi che per professione la storia la insegniamo, la storia non è affatto una scienza collezionistica che mette in fila le cose passate. La storia è una scienza che studia la genesi del presente e lo fa in funzione del futuro. È nata come scienza impropria, come scienza nemmeno pura, come scienza molto sporca, perché è nata per essere funzionale alla politica. La storia moderna è nata nel Seicento e l'hanno finanziata i grandi sovrani a partire dal Re Sole perché doveva servire da supporto alle rivendicazioni diplomatiche e militari del Re di Francia. Quindi figuratevi se la storia è nata come qualcosa di obiettivo. Però noi amiamo cercare di trasformarla così, quindi come uno strumento che serve a prepararci per il futuro e che non serve tanto a distribuire le responsabilità o a decidere se Hitler era più cattivo di Stalin o se tutti e due messi insieme erano più o meno cattivi di Winston Churchill. La storia non ha questa funzione. La storia ha la funzione di comprendere, non nel senso di giustificare, che giustificare si può giustificare tutto. Oggi i giornali sono pieni di polemiche sulle genesi delle foibe e molti lo ricordano pelosamente, perché lo ricordano per tirare il carretto dalla loro parte politica, però lo ricordano giustamente dal punto di vista storico, correttamente dal punto di vista storico. se il fascismo, perché si tratta del fascismo, cioè del regime che ha governato il primo dopoguerra in Italia, avesse fatto una diversa politica nel nord-est italiano, quello che è successo probabilmente non sarebbe successo, sarebbe successo in una misura minore. È vero, però attenzione, si potrebbe anche obiettare, ma se la Germania fosse stata trattata più equamente, più umanamente alla fine della prima guerra mondiale, gran parte del popolo tedesco sarebbe veramente andato con Ifra. Il giustificazionismo non è uno strumento storico. Naturalmente, però, quando succede qualcosa, bisogna capire dall'interno perché è successo. E allora a che serve la memoria? A che serve il ricordo? Al di là dell'affetto, al di là anche del dovere della memoria, del ricordo. Noi, con tutta la nostra forza, con tutta la nostra tecnologia, non potremo mai risuscitare un bambino ebreo, o anche non ebreo, o anche zingaro, o polacco, o russo, quello che volete, morto ad Auschwitz. Con tutta la nostra tecnologia, noi non potremo risuscitare un ragazzo buttato nelle foibe, o un vecchio buttato nelle foibe. Nemmeno il cane nero, sapete che gli sloveni, facendo un vecchio rito d'origine quasi omerica, ellenica, quando buttavano nelle foibe i Giuliano Dalmati, ci buttavano sempre dentro anche un cane nero, perché morisse con loro, ma soprattutto perché li accompagnasse all'inferi. Era un vecchio rito d'origine precristiana che questi ragazzi, che probabilmente erano dei bravi ragazzi, ma che in quel momento avevano le loro ragioni, fra virgolette, per fare quello che facevano, e che erano atei, comunisti, eccetera, addirittura la loro memoria collettiva riandava all'età domero, in qualche modo per assicurarsi che l'anima del morto ingiustamente non tornasse in terra a vendicarsi. Perché siamo questo, siamo modernissimi e siamo profondamente arcaici. E forse quando facciamo il male, noi amiamo dire che il vecchio barbaro che c'è in noi risale a galla. Speriamo che sia così, che la nostra barbarie non sia invece moderna o addirittura postmoderna. E allora cosa si fa? Per gli ebrei morti ad Auschwitz o a Bergen-Belsen o per i Giuliani delle foibe, noi non possiamo più far niente. Se non ricordarli, onorarli. Noi possiamo far qualcosa per gli ebrei e per i Giuliano Dalmati di oggi. Noi possiamo far qualcosa per le persone che stanno ancora, lo ricordo perché noi siamo nell'alleanza atlantica, il nostro presidente eletto tiene molto a ricordarci che siamo europei, ma anche atlantisti. E allora ricordiamo che il nostro paese guida tiene ancora aperto un campo di concentramento nella città cubana, extraterritoriale di Guantanamo. Il presidente Obama provò a eliminarlo, non ci riuscì. Ed è un campo di concentramento sottratto all'attenzione internazionale. non sappiamo cosa c'è. Quello potrebbe essere un nuovo Auschwitz, quello potrebbe essere una nuova foibe. I ragazzi o anche i vecchi che arrivano dalla Turchia, che arrivano dall'Afghanistan, che si sono fatti mezza Asia e mezza Erofa a piedi e che vengono ributtati indietro e spesso prima di essere buttati indietro, violentati e derubati dalla polizia croata o dalla polizia bosniaca, quelli sono i nuovi ebrei, quelli sono le nuove vittime delle foibe. E noi siamo complici di questi delitti nella misura in cui ci assistiamo, stiamo zitti, ci voltiamo dall'altra parte, non disturbiamo il manovratore. Quelle sono le cose che noi dovremmo insegnare le scuole. E sono le cose che noi, io e la mia corporazione come insegnanti, voi magari come politici, dovremmo e dovreste insegnare alla nostra e vostra clientela, che poi è la stessa, è la società civile italiana. L'unico modo per onorare adeguatamente i caduti dell'una dell'altra parte e poi i caduti sono caduti e basta, sono morti e basta, sono vittime e basta, sta nell'impedire che questi orrori continuino a accadere. Attenzione, io ho 80 anni, sono nato nel 40, per 75 dei miei anni sono vissuto in una democrazia e per 75 dei miei anni ho visto passare davanti ai miei occhi le più nere infame, infamie, di cui non poteva essere chiamato Hitler responsabile, di cui non poteva essere chiamato Stalin responsabile. Certo, c'è sempre un nuovo Hitler, c'è sempre un nuovo Stalin, si fa presto a mettersi la coscienza a posto, ma nella realtà le cose sono diverse. Il nostro dovere della memoria è un dovere civico, però deve cominciare a diventare un dovere concreto ed è una cosa perfettamente, assolutamente difficile. È difficile anche a far capire, soprattutto ai giovani, è difficile anche a vivere concretamente perché poi si finisce a dire va bene, rimbocchiamoci le maniche, da dove si comincia? E lì cominciano i guai, forse bisognerebbe cominciare da casa nostra, forse bisognerebbe cominciare da quelli, e attenzione, non solo i migranti, perché ci sono anche tanti nostri connazionali che sono in condizioni deplorevoli e che avrebbero tanto bisogno di essere aiutati, di essere soccorsi, di cominciare a essere trattati come esseri umani. Perché che le tirannie non trattino i loro sudditi come esseri umani è quasi naturale, ci siamo abituati, ma se le democrazie cominciano a non trattare i loro cittadini o i loro ospiti, migranti, esuli, quelli che sono come esseri umani, allora lì c'è qualche cosa che non va. E allora lì bisogna pacatamente, ognuno dal suo punto di vista, ognuno dalla sua parte politica, però bisogna pacatamente intervenire, intervenire in maniera energica, intervenire facendoci, facendo sentire anche la voce di quelli che ordinariamente, in questo tempo di Twitter dove tutti gridano e dicono quello che gli fare, però queste voci si continueranno a sentire. Ma io ritengo che il 10 di febbraio abbia sempre un grande significato nel ricordo, nel ricordo di tanti italiani che solamente perché erano italiani furono coinvolti in quello che furono campagne di distruzione di massa, che hanno toccato i nostri connazionali. Io vedere con il titolo della nave, Toscana, dal porto di Pola, quella Pola che il nostro concittadino Dante Alighieri 700 anni fa definiva un po' il limite dell'Italia, nella Divina Commedia viene citata in questa veste. Ecco, dal porto di Pola vedere il traghetto, piroscafo, Toscana, che carico di persone che devono lasciare la propria terra, i loro sentimenti, i luoghi dove erano radicati, mi strugge nel sentimento di solitarietà, di vicinanza e di ricordo della ingiusta, assurda, drammatica fine che molti di loro fescero perché furono battati in quelle foibe. Non deve più accadere. Oggi non è il tempo delle polemiche, oggi è la giornata del ricordo. Mi dispiace che le colleghe del Movimento 5 Stelle non parteciperanno. La scelta delle personalità di chi oggi interviene è stata condivisa in conferenza di programmazioni e lavori dove erano presenti. Mi pare strano che abbiano deciso di fare tutto questo. Io non entro nella polemica. Oggi, come diceva benissimo il professor Cardini, ringrazio davvero per la disponibilità, è il tempo di attualizzare la memoria. In un tempo, in un momento in cui tutto corre veloce, la memoria è un dovere delle istituzioni. Ricordare vuol dire avere la capacità di saper leggere. C'è una differenza tra conoscere e capire. Noi abbiamo la necessità di formare, di insegnare. È un ruolo delle istituzioni, di far capire cos'è stato perché non accada mai più. Ho ascoltato poco fa le parole del professor Cardini e quel modello di attualizzare quello che è successo perché non accada mai più. Quell'odio barbaro che ha pervaso l'Europa e che ha portato poi anche a rivedere, penso oggi, ai tanti, troppi nazionalismi che ci sono ancora nella nostra Europa. È un tempo di creare ponti, non di alzare muri e barriere. Non è un derby tra due storie differenti. Sarebbe un errore leggere questa giornata in questa maniera. Oggi è raccontare una storia terribile, una storia che ha provocato tante vittime, una storia che è un pezzo integrante anche della nostra storia nazionale. 17 anni fa un grande Toscano, di cui abbiamo celebrato i cento anni dalla sua nascita qualche settimana fa, il presidente Carlo Azzelio Ciampi, quando decise di istituire questa giornata, lo fece esattamente per questo. E le parole di Mattarella, del presidente Mattarella, che ci dice che la memoria è il modo migliore per saper guardare al futuro, è esattamente lo spirito con cui noi vogliamo affrontare questa seduta solenne, senza polemiche, con lo sguardo proiettato verso il futuro, partendo e conoscendo un pezzo di storia che è un pezzo di storia significativo per ciascuno di noi e per i nostri figli. Beh, intanto occorre dire che la memoria è veramente un patrimonio prezioso che va salvaguardato e va tramandato, soprattutto ai giovani, perché si abbia consapevolezza di quello che c'è stato prima di noi e soprattutto perché questi ricordi, in questo caso di queste tragedie, possono servire perché questo non accada mai più. E poi è un giorno nel quale va resa dignità e giustizia ai morti delle foibe e a coloro che si trovarono oltre 300.000 esuli dalle loro terre, probabilmente senza nessuna colpa. Anche qui in Toscana circa 580 furono ospitati qui a Firenze, nella struttura del Sant'Orsola. All'Aterina, un campo di prigionia fu invece trasformato in un campo di accoglienza e lì molti di più furono ospitati. Quindi è una vicenda che fa parte delle tragedie del nostro Paese, della storia dell'Italia. È una cosa che ci sta alle spalle ma che deve servire da monito per il futuro. Perché anche quella tragedia, come altre, fu determinata da ideologie nazionaliste, ideologie razziste, ideologie di persecuzione etnica. Cose che purtroppo ci sono state anche recentemente ed è un virus che è ancora presente anche nei nostri Paesi civili, se vogliamo, dell'Europa e ovviamente del mondo. È un virus che è più pericoloso del Covid, ma se il Covid si può e si sta combattendo con le mascherine o con un vaccino. Il vaccino contro queste ideologie è il vaccino del ricordo, è il vaccino della cultura, è il vaccino del dialogo, è il vaccino della tolleranza, è il vaccino di politiche che cercano di andare ad abbattere quelle che sono le differenze tra i popoli, sia economiche sia sociali. E questo credo che le istituzioni debbano fare e questo che noi dobbiamo tramandare ai nostri giovani. E quindi questa giornata è una giornata importante per ricordare quello che è accaduto, ma soprattutto per guardare al domani. Il giorno del ricordo ha un significato di ricordarci come dei morti del nostro Paese ci hanno lasciato. Ci sono degli eventi storici che non devono essere dimenticati e soprattutto vanno inquadrati nella loro dimensione storica. Bisogna conoscere quello che è successo ed è importante che avvenga anche iniziative come queste. Sono invece solidale con quanto ha dichiarato Ampi oggi riguardo alla partecipazione del giornalista che sicuramente ha un grande passato alle sue spalle come giornalista di guerra, come per le inchieste che ha fatto, ma secondo me per la sua avvicinanza a certi ambienti della destra e ad alcuni salotti non era la persona più adatta da scegliere oggi. In solidarietà con Ampi e con la consapevolezza che tutti gli eventi di ricordo e di memoria del nostro Paese devono essere liberati dalla politica per evitare ogni tipo di strumentalizzazione il Movimento 5 Stelle oggi lascerà l'Aula. Alla valutazione è che è stato un momento importante come ogni anno quando si affrontano questi temi. Noi siamo l'ultima generazione che ha il privilegio di conoscere dal vivo i testimoni delle grandi pagine di storia del Novecento, dei grandi drammi del Novecento. Quindi su di noi pesa un doppio peso, un doppio fardello, quello di recepire la memoria e trasmetterla ma anche quella di essere coloro gli ultimi che hanno conosciuto direttamente i protagonisti di quelle pagine di storia e fare da tramite tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni. Le polemiche sono strumentali, fini a se stesse, ridicole, verso un personaggio che non devo certo difendere io per il curriculum straordinario che ha come professionista, evidentemente siccome nel suo svolgere la professione giornalista ha smascherato i legami tra il Movimento 5 Stelle e il Venezuela di Maduro, probabilmente saranno usciti dall'Aula per quello più che per la giornata del ricordo. Ma gli invito in futuro a non confondere i due piani. Innanzitutto occorre ricordare unitariamente, al di là delle polemiche, dei fatti che sono stati molto dolorosi per delle comunità, comunità, diciamo, Dalmat e Giuliani sono state veramente colpite da questa tragedia. Occorre ricordare unitariamente, elevando i toni e scansando le polemiche. Quello che mi sento di dire è di poi dare attuazione concreta a queste giornate e in questo senso ritengo opportuno condividere quella proposta di legge che vede prima firmatario il nostro segretario federale Matteo Salvini di revocare l'onoreficenza del Cavaliere di Gran Croce a Tito, che fu concesso dal Presidente della Repubblica Saragat. Tito quindi, ecco, condivido, cerchiamo di attuare il ricordo e di vivere queste giornate nel modo più unitario possibile. Dopo la somministrazione delle prime dosi arrivate, è in distribuzione in Toscana la seconda fornitura del vaccino AstraZeneca per le categorie che sono al momento coinvolte, soggetti tra i 18 e 55 anni non compiuti del personale scolastico e universitario, docente e non docente, di ogni ordine e grado, forze armate e di polizia. Intanto, i rappresentanti dei medici di medicina generale hanno firmato il preaccordo che li vedrà impegnati nelle vaccinazioni per il Covid-19, da subito per gli ultraottantenni e successivamente, magari, per i toscani più giovani ma a rischio o giudicati fragili per via di particolari patologie. La Toscana sta sviluppando tre linee di vaccinazioni. Con Pfizer e Moderna la vaccinazione è in corso per quanto riguarda il personale sanitario e gli anziani dell'RSA e siamo arrivati a circa 160.000 dosi somministrate. La seconda linea sarà quella che attraverso i medici di famiglia ci vedrà da sabato, San Valentino, somministrare attraverso gli ambulatori e la decisiva collaborazione con i medici di famiglia dei farmacisti, quelle che sono ulteriori dosi di vaccini Pfizer e Moderna. La terza linea di vaccinazione è quella che arrivando oggi i vaccini, da giovedì sera, potremo attivare per gli insegnanti e le altre categorie previste. Io spero che possiamo arrivare presto ad avere dosi di vaccino che siano pari alla nostra capacità di somministrare, alla macchina organizzativa. Perché io ho bisogno di sentire che arrivino che sono dosi sufficienti a creare progressivamente una immunità di gregge che possa metterci a riparo e costituire la barrera per quella che è la pandemia. Naturalmente l'organizzazione nostra c'è e dimostra i suoi risultati. Tutto sta nell'avere le dosi di vaccino. Mi pare l'unica scelta che è quella che sta facendo la Giunta è quella di destinare i vaccini che si possono usare per gli ultriottantenni per quella fascia di popolazione e quindi destinare fin da subito il più possibile Pfizer e Moderna alla popolazione anziana. Questo ovviamente, è chiaro, ritarderà i tempi che ci eravamo immaginati nella vaccinazione degli ultriottantenni, però siamo fiduciosi del fatto che una volta chiuse le vaccinazioni sanitari si possa incrementare in maniera veloce e poi abbiamo visto che da una settimana all'altra cambiano le notizie e anche le quantità e sappiamo che ci sono anche altri vaccini che sono in procinto di arrivare. Quindi intanto concentriamoci perché tutte le dosi che arrivano siano impiegate in maniera ottimale per i cittadini più critici e su questo poi ovviamente il dato di AstraZeneca. Noi speriamo anche che nelle prossime settimane possa essere superato perché sappiamo che per ora c'è una carenza di indagine, non un'indagine che dice che non si può usare sugli ultra 55 anni e speriamo che anche questo sia colmato nelle prossime settimane. Io credo che sarà un po' ottimistica pensare che prossima settimana si inizia la seconda fase perché ci abbiamo ancora da finire la prima. Noi i dentisti per entrare nello specifico mio da oggi iniziano a poter prenotare per cui io stesso sarò la prossima settimana, anzi la settimana ancora dopo. Quindi credo che non ce la faremo, la tempistica secondo me è del tutto falsata perché fino a che non ci saranno i medici di famiglia che potranno incominciare a vaccinare credo che i tempi saranno ridotti e i numeri saranno quelli che sono, cioè minimi. Non solo, ma c'è anche un certo pressappochismo nella idea di come procedere nella vaccinazione perché i medici di famiglia mi hanno appena detto, non più tardi di ieri, che non sanno come procedere e addirittura sembrerebbe che i vaccini a loro destinati per la vaccinazione degli over 80 siano della Pfizer. Quindi i più difficili da maneggiare poiché hanno ovviamente la necessità di stare a meno 80. Credo che quindi i tempi si allungheranno, è ottimistico pensare a una seconda fase di inizio della prossima settimana, credo che l'importante sia ancora mantenere un assoluto distanziamento, il gel, la mascherina e sperare che si possa quanto prima ottemperare a quanto tutti auspichiamo. Naturalmente tutto finalizzato all'immunità di gregge. Io insisto che questo piano vaccinale, così come è stato declinato dalla regione toscana, ha molta confusione in sé. Ci sono stati dei problemi in diverse province e non soltanto legati alla fornitura della Pfizer che è stata rallentata, pure anche lì poteva essere trovato un sistema, un rimedio producendoli in proprio grazie all'articolo 31 come la mozione che avevamo presentato, ma di fatto nessuno ha voluto discuterla. La verità è che adesso continuiamo ad andare abbastanza alla cieca, con molto disordine e non vedo questa giunta attenta e soprattutto non la vedo in grado di risolvere i problemi. Ci sono sicuramente delle persone che hanno necessità in questo momento di essere urgentemente vaccinate, ma non le vedo mettere nell'ordine delle priorità. Ci sono anche molte segnalazioni preoccupanti riguardo l'utilizzo dei vaccini. Pensiamo a quelli che hanno ricevuto la dose, delle dosi che dovranno essere per sei persone, sei vaccini e invece sono diventate sette. Qui ci sono delle domande importanti da fare non solo alla giunta, ma anche a tutto il sistema sanitario che lo sta organizzando. Quando arrivano i vaccini sono sempre grandi opportunità. Lo sono a vantaggio delle persone che hanno più di 80 anni e ringraziamo fin d'ora i medici di famiglia per l'operazione che faranno. Lo sono per tutte le persone che hanno bisogno di essere vaccinati, soprattutto per le categorie che sono più esposte. A me ha fatto molto piacere vedere che siano gli insegnanti, per esempio, una di quelle categorie che prima di altre verrà vaccinata e come questo ogni altra forza, tutte le forze dell'ordine, tutte le persone che sono esposte sia del sistema sanitario che del socio sanitario e tante altre persone che beneficeranno dei vaccini. Non ci dimentichiamo che la pandemia è iniziata un anno fa e prima di un anno sono arrivati i vaccini. È un evento straordinario, quindi non stiamo lì a guardare se una settimana prima o una settimana dopo. È un evento che era imprevedibile per quanto riguarda la dinamica della scienza. Quindi portiamo rispetto a chi dovrà organizzare la campagna di vaccinazione, augurandosi ovviamente che possa essere fatta in maniera più celere possibile. Guardi, noi oggi abbiamo presentato come gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale ben cinque interrogazioni sul piano vaccinale. Non siamo assolutamente contenti della risposta, lo abbiamo detto in maniera molto chiara in aula, perché ci sono ancora tantissime lacune sul piano vaccinale. La prima è che i vaccini sono troppo pochi per le esigenze dell'Italia e in particolare della nostra regione. La seconda è che c'è tantissima confusione su chi si potrà vaccinare, perché si possono vaccinare le forze dell'ordine e i servizi essenziali. Quali sono i servizi essenziali? I servizi essenziali sono i guidatori, per esempio, del trasporto pubblico? Punto interrogativo. Ancora le linee guida non ci sono. E poi esiste una fascia, che è una fascia assolutamente scoperta, perché il vaccino si fa fino ai 55 anni e poi che cosa succede? Quindi c'è una fascia che è assolutamente scoperta, le dosi sono troppo poche, i centri non si sa ancora quali sono, i medici di base dovranno chiamare gli ultraottantenni, ma ci domandiamo come faranno a chiamarli, dove si vaccineranno gli ultraottantenni? Gli interrogativi sono ancora troppi, le speranze sono ancora disattese e gli italiani e i toscani che aspettano un vaccino sono ancora esageratamente troppi per dare una risposta efficace all'emergenza sanitaria e soprattutto perché se non vacciniamo in maniera veloce e rapida gli italiani non si potrà contrastare e dare una risposta seria alla crisi economica, che in questo momento ci preoccupa tantissimo. Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Toscana, una mozione presentata da Stefano Scaramelli di Italia Viva e sottoscritta da tutti gli altri capigruppo, che chiede che la Regione debba garantire l'istoria alle attività economiche dei comuni, ai quali per effetto della crescita del contagio da Covid, si è imposto il regime di lockdown totale attraverso ordinanza del Presidente della Giunta. Si tratta della cosiddetta zona rossa, come accaduto a Chiusi in provincia di Siena, o della classificazione in zona arancione, mentre il resto del territorio regionale si trova in zona gialla. I criteri per l'erogazione dei ristori dovranno essere modulati sulla base del colore assegnato alla zona. È opportuno, io ho lavorato in queste ore in maniera incessante perché si potesse trovare il livello di condivisione massima con tutte le forze politiche, che ringrazio per aver sottoscritto un atto che io ho presentato, in modo tale che in maniera unanime il Consiglio regionale, senza etichette di bandiere politiche, possa definire e dare mandato alla Giunta regionale che qualora il Governo non dovesse intervenire per le zone rosse di carattere comunale, possa poi procedere con una legge autonoma a fare degli stanziamenti ai comuni. Noi chiediamo uno stanziamento specifico, comune per comune, qualora un comune dovesse essere chiamato ad affrontare una zona rossa. In questo momento è successo la città di Chiusi, in provincia di Siena, domani potrebbe succedere ad altre città. Noi dobbiamo avere una legge che in maniera puntuale, tempestivamente, dà dei ristori a quelle attività che si trovano in lockdown comunale rispetto a ordinanze di carattere regionale. Se poi il Governo non interviene, bene, ma aver chiesto a tutte le forze politiche un atto unanime, io credo che sia stato un atto di responsabilità, io mi sono assunto questa responsabilità e ringrazio fin d'ora tutte le forze politiche per aver condiviso con me questa azione politica bipartisan. Grazie a tutti i nostri spiegati a tutti i nostri spiegati a tutti i nostri spiegati